Bonus affitto, la regione ha stanziato 13 milioni di euro, a Caltanissetta ne arriveranno 178 mila, proporzionalmente al numero di istanze presentate, che nell'intera regione siciliana sono state quasi 7 mila. Stanziati fino a 3 mila euro a famiglia, lo afferma l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, che ha definito come ottimo il risultato raggiunto, visto che si darà un concreto sostegno a molti nuclei familiari, gravati dalle conseguenze della crisi economica e in atto a più livelli. I termini erano scaduti lo scorso 21 aprile. Il bonus affitto della regione, che era rivolto a redditi con Isee fino a 15 mila euro annui e a coloro che hanno subito cali reddituali dovuti all'emergenza Covid, prevede prima l'elenco dei beneficiari, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'assessorato regionale alle infrastrutture, e poi la liquidazione dei contributi. Grazie a tutti.